eccoci ragazzi nuovo video quest'oggi apriamo Kekilu surprise che non abbiamo mai aperte una non ho idea di che cosa siano ma da quello che vedo in confusione sembrano delle borse e qui troviamo lo surprise all'interno 3 secret disc di cui uno sempre special si è come la panda di luna pop 108 tutte da collezionale stacetta stavo facendo la battuta tu mi fermi zio va bene dicevo gira dicevo leggiamo 3 secret disc di cui uno sempre special e non so se è 50 special come luna pop oppure niente va bene me l'hai fatta perdere vai 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 apriamo apriamo subito la rivista non l'abbiamo presa come al solito la solita fretta nostra qua ci dice che dietro dobbiamo scoprire cosa c'è da come ho capito vabbè vediamo che andrano come degli strati andiamo nella della officina eccola e la donna vedete qui dobbiamo grattare cosa non gratta vinci mamma mia quante sono abbiamo visto rocker questo qui sono su quel alla rivista era già dentro quindi bene niente qua ci fa vedere un po di creazioni così olivo conosci l'ippopotamo ma che me frega dell'ippopotamo niente questa qui la rivistina allora vediamo un pochino qui abbiamo heartbreaker ma dobbiamo cancellare per vedere cosa ma dai ma io non lo so ma te ma è possibile che trovi le cose bianco e nero tutte le non c'è una volta c'è anche rosso questa è la legge di cuore di alice ok poi abbiamo trovato la lille di non mi ricordo come si chiama questa aia ragazzi è caduta è caduta bits il bits ok mi dai minuti stava cadendo no queste glitter che meraviglia bonbon tepiglie abbastonate bonbon che bella amo amo vabbè tra le tre mi piacciono loro due allora in teoria ci vorrebbe adesso una monetina che andrò a prendere aspettate un secondo ciao topino ok pallina ciao ok adesso trattiamo e vediamo cosa ci viene fuori allora questo qui è heartbreaker qui abbiamo una bottiglia quella con baby goo goo cosa vuol dire non lo so ci dice che dobbiamo grattare grattiamo secret disc qui c'è qualcosa di segreto oh cuore scutti evviva evviva cosa evviva abbiamo trovato lei allora un giorno più di ieri non lo so io prenditi le briciole tu ma vada via i cuti e le briciole solamente che mi sto sporcando in una maniera atroce poi si so via verso di me non lo so c'è lei con me ah qui ci spiega curioso scutti di che club appartiene storybook club popular qui ci dice il codice che in teoria non serve a niente e qua abbiamo l'indizio il suo indizio appunto con cui veniva trovata lei è della serie 2 e veniva trovata con l'indizio della tela cioccolata quel cavolo che è più coriandoli festivi in festa eccola qua artbreaker quindi appunto lei è Alice e lei la regina di cuori giustamente fanno parte dello stesso film se l'hai capito stesso cartone ok poi andiamo avanti questa è questa qui è la Lil Beats qui abbiamo il pet di Onei Ban Onei Han poi aiuto no no marocchina no ti prego no c'è la Lil Beats di Onei Ban ma no ma dai ti fa anche l'occhiolino questa qui è la Lilina cioè anche qua riescono a tenere le gambe aperte è una Lil seduta pop club se vi ricordate quello è il tuo club e qui abbiamo l'invizio con cui si poteva trovare Lil Le Ban il cuore spezzato ti ricordi? orca miseria che è passato un casino di tempo e questa fa parte della serie due se no che mi si è immacchiata la tovaglietta e qui abbiamo Lil Beats e adesso vediamo l'ultima vediamo quella glitterata per me esce Bam Bam di Fleaston dai guarda qui abbiamo cosa vuol dire questo qua ma tu ah non lo sai cosa vuol te lo dico io cosa vuol dire questo è il verso che fa quello di Fleaston ti he ti he ti he si vabbè c'hai ragione tu certo ah qui abbiamo abbiamo oddio questa si chiamava oddio non mi ricordo più non mi ricordo no ragazzi veramente non ti ricordi veramente fanime adesso perché l'hai letto eh sì non mi ricordavo al momento ragazzi astag e chiara non si ricorda l'ombre di una loro scuola che accade raramente ma è successo qua abbiamo l'indizio con cui si poteva trovare ovvero ventilatore più bambina ok ovviamente loro due fanno parte dello stesso club ovvero il cosplay ok e infatti fanno parte della moda giapponese kawaii ok quindi abbiamo loro vi temi se sono i commenti qual è la vostra preferita e ora andiamo a vedere la kekidu a me sinceramente le kekidu non mi piacciono però essendo che una mia amica le ha prese mi ha detto dai prendile guardale che secondo me ti piaceranno vabbè vediamo andiamo a vedere allora qui abbiamo delle borsette con dentro delle teste di bambola cos'è teste di bambola c'è una checklist per me nomi 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 e qua dentro c'è anche un make up ovvero ombretto oppure body glitter aspetta aspetta c'è la check ragazzi mamma mia su tutte le maniere dopo mi devo lavare abbiamo basta che ti muovi shloé giusto chloe no shloé già faccio ridere solo per questo vabbè birky tess chi è tess è quello di quello lì del programma di canale 5 si kelly si sono le scarpe è lì kelly joel 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 rochelle perle dai veloce juen joice kate nicole e kelly si infatti sei grassa kelly no kelly allora ragazzi allora sono prodotte dalla giochi preziosi e di sedicola quindi sono praticamente in combo adesso qui abbiamo penso una checklist scusate il classico libricino classico le ricette gli animali checino checino mi piace proprio checino checino wow cos'è quella cos'è che è la roba qui penso abbiamo trovato rochelle credo si rochelle si rochelle rochelle e dove è l'acqua prendo le forbici cosa sta la cascata checino checino sei pazza proprio tu è vero ok adesso queste come si aprono hashtag chiara professionali da zero allora ce la farò ah ok wow cos'è sta roba oh mamma oh madonna ah anche i piedi c'è ah questo si abbassa ok wow beh oddio non è niente di che sinceramente non mi piacciono poi tantissimo anche se lei ha i colori diciamo arcobaleno e qui penso ci sia il lucida labbra credo quello ma quello azzurro cos'è un sceghetto un sceghetto tagliamo i capelli no aspettate ragazzi devo capire perché non c'è capito niente tra l'altro abbiamo trovato quella del fumetto guardate abbiamo trovato proprio lei però devo capire allora ok ah ah però questa mamma mia ragazzi che impedita che sono questa va inserita qui inserita qui e poi questo ah ok questo praticamente va alzato c'è dentro c'è dentro qui le luci da labbra credo però che io non utilizzerò mai giustamente body glitter qui mi sarà dei glitter per il corpo e niente e niente sono un po' impedita scusate bene ragazzi ecco mi sono partiti i piedi perfetto bene non come già avevo detto la mia amica non non sono granché non mi piace l'entusiasta di queste che no anche che ci sono tipo i play set toys in giocheria insomma dei play set però non mi piacciono ok niente di che ragazzi voi diteci la vostra nei commenti e noi solita storia prossimo video like iscriviti e vada vita ok ma smettila ciao ciao ciao